Ancora pochi giorni e terminerà il cantiere in via Negusantiafano, ma già si nota la trasformazione della careggiata. L'assessore Fabiola Tonelli oggi è tornata a fare il punto sull'avanzamento dei lavori e sui tempi previsti. Nonostante alcune polemiche da parte di residenti e commercianti, l'amministrazione ha voluto puntare sulla mobilità sostenibile. In base al progetto sono stati eliminati i parcheggi lato nord per lasciare spazio a due piste divise dai cordoli, una dedicata ai pedoni e l'altra a chi viaggia in sella alla bicicletta. La nuova ciclabile a doppio senso di marcia andrà a congiungersi con quella di Sant'Orso per realizzare un unico collegamento fino al centro storico e alla zona mare. Attualmente stanno lavorando nella parte finale verso via 4 novembre e entro questa settimana dovrebbero finire di asfaltare e fare la segnaletica in tutta via Negusanti, meteo permettendo. Ovviamente la segnaletica si può fare solo se la pavimentazione non è umida, bagnata, quindi questa settimana speriamo in un tempo bello perché entro il 22 quindi dovremmo finire con tutta la segnaletica verticale e anche l'asfalto della parte restante. Sono previste anche aiuole, piante e una nuova illuminazione a led. Dall'altra parte della strada invece sul lato della farmacia rimarranno alcuni parcheggi. Cercheremo entro il 22 anche di posare tutto il verde in queste grandi aiuole e lungo tutta via Negusanti. La fine del cantiere è prevista per il 22 dicembre quindi riapriremo tutta la strada e sarà percorribile a tutti gli utenti.